Il mio nome è Giusta, e sto lavorando qui, questo è il dipartimento di spagioterapia. Abbiamo un bambino qui, ma è solo un'invasionale. Nella mattina oggi, è stata diagnosiata con malaria e pneumonia. Adesso la stanno trattando sia con gli antibiotici per la polmonite che con gli altri malarici. La febbre è molto alta e quindi stanno trattando la febbre. According to the mother, they are deciding in Omola, an IDP camp. That's where they are coming from. Men should kill, Marta. Men should kill, Marta. 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 Marta.